Troppo alto, la sua accelerazione, poi il tiro, Fiorillo ancora a quadrado, prova ad andare, la mette in mezzo, Iguain! Il Pipita la mette dentro, ma il gol è per tre quarti di quadrado. Esatto, si sveglia a quadrado dal torporo iniziale. Buon idea per l'Iksteiner che può mettere in mezzo, vuole palla Iguain, arretra Iguain di testa, ci prova! Diventa quasi un assist per Marchisio, si dispera Iguain. Adesso di bala per Iguain, il sombrero. Prova a mettere in mezzo, cerca il tiro, la posizione impossibile, che giocata il Pipita! Presa alto, con i suoi attaccanti di Pescara, ma non si accorcia. Per la doperre, Manciukic, che la schiaccia, palla che si impenna. Palla dietro, intelligente per Pjanic, di prima, morbido nel mezzo, Manciukic, sponda, cerca Iguain, arriva ancora il Pipita!